Nostradamus, il profeta del Rinascimento Michel de Nostredame, meglio noto come Nostradamus, è stato un astrologo, scriba, farmacista e speziale francese, nato a Saint-Rémy-de-Provence il 14 o 21 dicembre 1503 e morto a Salon-de-Provence il 2 luglio 1566. È noto soprattutto per il suo libro Les Profeties, pubblicato nel 1555, una raccolta di 942 quartetas poetiche che, secondo alcuni, predicono eventi futuri. Nostradamus nacque in una famiglia di commercianti e notai. Studiò medicina a Montpellier, dove si laureò nel 1534. Durante gli studi si interessò anche all'astrologia, alla cabala e all'alchimia. Dopo la laurea, iniziò a esercitare la medicina a Agen, dove ebbe successo nel curare la peste. Nel 1547, Nostradamus si trasferì a Salon-de-Provence, dove iniziò a scrivere le sue profezie. Le quartetas di Nostradamus sono scritte in un linguaggio oscuro e allegorico, che ha contribuito a alimentarne il mistero. Alcune di esse sono interpretate come predizioni di eventi storici reali, come la Rivoluzione Francese, la Prima Guerra Mondiale e la Seconda Guerra Mondiale. L'opera di Nostradamus ha avuto un enorme successo, sia in Francia che nel resto d'Europa. È stato tradotto in numerose lingue e ha ispirato numerosi libri, film e opere teatrali. Le profezie di Nostradamus Le profezie di Nostradamus sono state oggetto di un'intensa discussione e dibattito per secoli. Alcuni credono che siano vere profezie, mentre altri le considerano semplici coincidenze o interpretazioni fantasiose. Tra i presunti eventi preannunciati da Nostradamus ci sono La Rivoluzione Francese 1789 La Prima Guerra Mondiale 19.141-918 La Seconda Guerra Mondiale 1939-1945 L'assassinio di John F. Kennedy 1963 L'11 settembre 2001 L'arrivo di un'era di pace e prosperità Naturalmente, non esiste alcuna prova concreta che Nostradamus abbia effettivamente previsto questi eventi. Le sue quartetas sono interpretabili in molti modi diversi, e spesso sono state adattate a posteriori per adattarle a eventi storici reali. L'influenza di Nostradamus L'opera di Nostradamus ha avuto un'influenza significativa sulla cultura popolare. È stato oggetto di numerosi libri, film e opere teatrali, e il suo nome è stato spesso associato al misticismo e all'occulto. Nostradamus è considerato uno dei più grandi profetti della storia. Le sue quartetas continuano a affascinare e a ispirare persone di tutto il mondo. Qual è la verità su Nostradamus? La verità su Nostradamus è probabilmente un mix di realtà e fantasia. È probabile che fosse un uomo dotato di un'intelligenza e di una cultura superiori alla media, e che avesse una certa conoscenza dell'astrologia e dell'occulto. È anche possibile che abbia avuto qualche capacità di previsione del futuro, anche se è difficile stabilire quanto questa capacità fosse reale e quanto invece sia stata frutto della sua immaginazione. In definitiva, Nostradamus è un personaggio affascinante e misterioso, che continua a suscitare l'interesse e la curiosità delle persone. Grazie. 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 Grazie.